Video recensione dedicata a Cover Orange HD, il titolo è di FDG Entertainment. In questo puzzle game dovremo proteggere le arance da una nuvola che fa cadere della pioggia acida, quindi dovremo fare di tutto per proteggere questi simpatici personaggi, questi frutti. Iniziamo dal menu principale, tasto per giocare play, gli altri giochi di questo produttore. Sulla destra le classifiche del game center, poi abbiamo il pulsante che ci permette di acquistare gli elmetti, quindi dei caschi protettivi che ci permetteranno quindi di superare i livelli più difficili. In basso i tasti relativi a musica ed effetti sonori, quindi attivarli o disattivarli, la voce info con tutte le informazioni sul gioco, tasto di Facebook e il tasto per giocare come dicevamo. In alto il nostro punteggio totale e poi troveremo tutti i vari mondi. Vediamo il primo e partiamo esattamente dal primo livello, vediamo qualche livello insieme. Quindi dovremo trascinare tutti i vari oggetti, quindi spostarli, creando delle vere e proprie barriere che proteggeranno quindi le nostre arance dalla pioggia acida. Avremo in alto appunto questi oggetti che dovremo far cadere, vedete ci sono delle linee guida che ci fanno vedere esattamente dove cadrà questo oggetto. Perfetto, abbiamo protetto al meglio e quindi in tutti i lati la nostra arancia, arriva la nuvola con questa pioggia acida e come vedete abbiamo protetto questo simpatico personaggio. Le ambientazioni sono veramente molto ben carine, tutte curate nei minimi dettagli, soprattutto bellissimi i colori molto accesi, risaltano molto all'occhio. In basso il tasto pausa per attivare quindi l'utilizzo degli elmetti, il nostro miglior punteggio, il livello, il punteggio che si abbassa man mano che passerà il tempo. Poi ovviamente il tasto per riavviare lo stesso. Andiamo avanti, ve ne faccio vedere un altri due. Perfetto, qui mandiamo la botta in questo punto e facciamo cadere quest'altra cassa qui. Come vedete anche in questo caso l'abbiamo protette e riusciremo quindi a superare anche questo livello. Ovviamente andando avanti ci saranno più arance da proteggere, più ostacoli da superare e ovviamente ci saranno tantissimi oggetti con cui interagire. Ad esempio qui abbiamo la ruota, quindi dobbiamo creare un vero e proprio meccanismo. E' perfetto, adesso andiamo, vediamo se ci riusciamo a proteggere le nostre due arance. Vediamo. Perfetto, è andata bene anche in questo caso. Quindi dovremo anche utilizzare le nostre abilità e l'ingegno per riuscire al meglio a far sopravvivere questi simpatici personaggi. Torniamo al menu principale. Quindi che dire, Cover Orange HD è veramente un gioco molto simpatico. Sia per quanto riguarda i personaggi, sia per quanto riguarda le ambientazioni molto carine, bellissimi i colori utilizzati, molto accesi. E bella questa grafica stile cartone. E' un gioco sicuramente adatto a tutte le tante, l'abbiamo detto è un puzzle game e dovremo quindi mettere alla prova le nostre abilità e l'ingegno per far sopravvivere le arance. Alla prossima!